Buongiorno e benvenuti Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito con le prime pagine dei quotidiani regionali. Andiamo a vedere allora le quattro edizioni provinciali del centro. In apertura dell'edizione di Pescara, tasse vase, via libera al condono. Approvata la delibera, si può saldare il debito con 5 rate. Nel taglio alto i laboratori del Gran Sasso, esperimento SOX cancellato, il progetto della discordia e poi verso il voto del 4 marzo scontro fra Movimento 5 Stelle ed Alfonso sulla candidatura. Nel frattempo Di Matteo lascia il partito democratico. Andiamo a vedere adesso di spalla nelle cronache a Pescara, via Lepindaro, nuova ciclabile e limite a 30 all'ora. In via Lepindaro sarà realizzata la nuova pista ciclabile al posto di quelle esistenti e verrà istituito il limite di velocità a 30 km orari. Lo prevede il progetto che realizzerà il comune. Ancora giovane in trappola, preso truffatore a Pescara, era ricercato in Francia. Ancora da Francavilla invece, piscina, sospeso l'accesso per liti sulla gestione. Andiamo a vedere ora a centropagina il bilancio della Caritas dopo un anno di lavoro. Rancitelli e Fontanelle, il risveglio delle periferie. Leggiamo nella didascalia. La Caritas diocesana fa un bilancio sul lavoro svolto dagli operatori del progetto Ninive, finanziato con l'Otto per Mille, un progetto che ha visto il rilancio del Parco della Speranza di Via Tavo e una serie di attività che hanno coinvolto famiglie e bambini. Lunedì si riparte da Fontanelle con l'avvio del doposcuola. Andiamo a vedere sotto la fotografia, nel taglio centrale, parola all'esperto, controlli fiscali, scusate, si cambia le novità per imprese e cittadini. Ancora la medicina malattierare, nasce in Abruzzo, una rete per 5.000 pazienti. Di spalla, nello sport, pallone nel caos e Fabricini, il commissario della Lega Calcio, questa la decisione. Poi nel taglio basso, il buongiorno Abruzzo, come di consueto firmato da Giuliano Di Tanna. Addio ombrelline, la Formula 1 si riveste. Restiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura sono ai domiciliari, ma rubano lo stesso Chieti in casa, trovati anche lanciarazzi, pistole e munizioni da guerra. Nel taglio alto le notizie che abbiamo già visto in precedenza. Andiamo rapidamente nelle cronache, ad Ortona, rapina le poste, banditi in fuga con le pensioni. Due banditi hanno portato via ieri mattina dalle poste di Villa Caldari 10.000 euro. Il bottino sarebbe stato maggiore se non fosse intervenuto un signore che ha fatto scattare l'allarme. Andiamo da Tessa ora fino a 1.600 euro in più di bonus agli operai della Sevel. E sempre invece dal capoluogo il genio civile Gere Costruttori di Megalò 2. A centro pagina andiamo a vedere anche la fotonotizia. Guardia Grele, manifestazione al liceo scientifico, maratona d'Annunziana. In 140 leggono il VAT per 12 ore. Se iniziate alle 9, se finite alle 21, anzi si finirà alle 21 e tutto pronto nell'aula magna del liceo scientifico di Guardia Grele per la maratona d'Annunziana. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro. Questa è l'edizione di Teramo. Il titolo di apertura, bimbo morto, assolto il medico, nessun colpevole per la tragedia sul campo di calcio a Pineto. Nelle cronache, sempre da Pineto, Dio Balducci era il decano dei mobilieri. Aveva 76 anni Franco Balducci e per oltre 40 ha condotto un gruppo all'avanguardia nel settore dell'arredamento. Amava lo sport ed è stato presidente del Pineto Calcio. Andiamo nel capoluogo Teramo in Viacona. Da solo rapina la terca, scolpo da 15 mila euro. Sempre dal capoluogo verso le politiche, Lucrezia Rasicci al battesimo assenti gli alleati per quanto riguarda la pagina politica. A centropagina, cerimonia a Petriccione di Castellalto. È stata inaugurata una scuola antisismica e senza barriere. La sua caratteristica peculiare è di non avere alcuna barriera architettonica. Rampe dolci invece delle scale. Nessun ascensore. È stata inaugurata ieri la nuova scuola primaria di Petriccione di Castellalto, che ospita 160 alunni. Alla cerimonia rappresenta il commissario per la ricostruzione, Paola De Micheli. Ancora sul quotidiano Il Centro, la prima di L'Aquila Avezzano sul Mona, il titolo Tari più cara a causa degli errori in apertura, una svista da 700 mila euro in tre anni, i costi, a più 161%. Nelle cronache, il premio Avezzano del Turco avrà i rimborsi per le missioni. I nove componenti del Comitato Scientifico per il premio Avezzano di Pittura, preseduto da Ottaviano del Turco, avranno gettoni di presenza ed eventuali rimborsi per le missioni fuori città. Avezzano rifiuti, multe da 500 euro a chi non effettua la raccolta differenziata. E poi sul Mona, gli ex studenti, va riaperto il liceo Ovidio. Andiamo a vedere a centropagina, nella fotonotizia, l'Aquila e i lavori in un convento del 1200, restauro con sorpresa, riaffiorano gli antichi tesori. La ricostruzione continua a riportare alla luce tesori nascosti, affreschi, pavimento in pietra del 1200, un portale con una scritta in latino gotico, riemersi in un antico convento a pile. Non si contano più ormai gli edifici, sia pubblici che privati, nei quali, in seguito al terremoto, sono stati rinvenuti affreschi o resti archeologici. Cambiamo testata, adesso passiamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. In apertura, l'Aquila, la sfida e l'orgoglio. I candidati nel ring dell'uninominale. Martino dice, noi del centrodestra siamo quelli del fare. La Panei, il PD sa reagire. Fedele, i 5 Stelle stanno crescendo. Fabiani, questa è la mia terra. Gli altri scontri politici. Il Movimento 5 Stelle attacca ad Alfonso. Scelta deleteria, quella della candidatura con i rappresentanti dei 5 Stelle, che poi ascolteremo, che invitano il Presidente D'Alfonso a dimettersi e a fare la campagna elettorale, la privato cittadino. E poi, Gran Sasso, il test radioattivo è stato annullato. Si parla ovviamente dell'esperimento SOX. Gli scienziati non ci sono le condizioni per portare a termine l'esperimento. La notizia, in realtà già nell'area da qualche tempo, è stata confermata ieri da una nota ufficiale dei laboratori INFN del Gran Sasso. L'esperimento SOX, quello al centro di tante polemiche, è stato definitivamente annullato. Esultano i movimenti ambientalisti che questa mattina terranno una conferenza stampa alle 9.45. Poi, a centropagina, a Teramo, nella fotonotizia, non si rassegnava la fine della relazione. A 67 anni da 20 perseguitava la ex. Una storia di stalking durata dunque 20 anni con la donna che alla fine ha deciso di presentarsi dai carabinieri. L'uomo è stato allontanato di spalla. Andiamo a vedere quest'altra notizia. Rifiuti, il piano contro l'inceneritore adesso è legge per quanto riguarda il piano rifiuti regionale, è diventata pienamente operativa la norma che vieta la termocombustione. Nel taglio alto, come di consueto, i richiami per quanto riguarda le altre notizie. La Serie C, Teramo rivoluzionato, ne acquisti subito dentro. Poi il volley, il basket, si è cortona, Banks, Oracelli, Sharks, rimpianto per Adam Smith in Serie B. Patron Sebastiani dice, Pescara sono soddisfatto del mercato, abbiamo ridotto la rosa come ci aveva chiesto il tecnico Zeman. La trasferta di Frosinone è considerata ad altro rischio, restrizioni da parte del GOS. Andiamo sulla città ora, per vedere anche la prima del quotidiano della provincia di Teramo. In apertura, niente libri nella scuola del futuro. Il futuro al Pascal Comiforti, il prossimo anno nascerà la prima sezione interamente digitalizzata. Andiamo a vedere a centropagina, una notizia che abbiamo già vista in precedenza. Impossibile produrre la sorgente radioattiva in Russia e dunque annullato l'esperimento SOX. Andiamo nel taglio alto ora. Giulianova, maggioranza giuliese appesa ad un filo. E poi l'ospedale Mazzini muore dopo la radiografia. Sono due gli indagati. Di spalla, Gaetano Quagliariello dice, con Chiodi e di Dalmazzi un'operazione pannelliana. E ancora Lucrezia Rasicci attorno alla leghista. Il centrodestra fa terra bruciata. Continuiamo con la cronaca. Sempre da Teramo con a rapina la Tercas con il taglierino. Nel taglio basso, Rivoluzione Regione. Apertura non stop alla biblioteca Delfico. Per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, ecco qui la notizia. Morte del baby calciatore, caso Calabretta. Assolto il medico del 118. Ora restano quattro gli indagati. Sotto la fotonotizia, il Teramo cerca lo sprint salvezza. Siamo al calcio alla Serie C. Parzialmente rivoluzionata la rosa. Arriva il Pordenone nel prossimo impegno di campionato. Ora apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera in apertura. Amazon Bracciali per gli operai. Gentiloni protesta. L'azienda ha più efficienza. Ma è solo un brevetto, un braccialetto che serve, dice Amazon, per controllare i movimenti dei dipendenti e velocizzare le consegne con un sistema che collega il magazzino ai dipendenti in maniera da far vibrare il braccialetto in caso di prelievi di materiale sbagliati. Andiamo a centropagina, nel taglio centrale del giornale, verso il voto. Tensioni in Forza Italia, caso Veneto nella Lega, l'asilo senza vaccino, intanto così raggi sfida il governo. A centropagina vedete invece il manifesto di oltre 20 attrici italiane, molestie, non abbiamo paura. Proseguiamo con il giornale La Repubblica, il titolo di apertura, Senato, candidati 5 stelle in affanno, nella Lega scoppia il caso Veneto, sondaggio sul voto, scatta la speculazione, tre fondi statunitensi e uno della Gran Bretagna scommettono contro l'Italia. A centropagina, l'immagine vedete una foto dei campi di concentramento, in particolare quello di Auschwitz, Shoah, legge Bavaglio in Polonia, Israele protesta e dice nega l'olocausto. Proseguiamo con la stampa, in apertura del quotidiano piemontese, Salvini, mai un governo di Maio. Forum alla stampa, puntiamo a esteri, giustizia e pubblica istruzione, voglio sgravi per chi investe in cultura, così il leader della Lega. Berlusconi prepara il piano B, se il centrodestra perde, pronto a scaricare la Lega. E poi il manifesto delle donne dello spettacolo italiano, basta molestie, oltre 100 attrici e registe del nostro cinema lanciano un appello, non dobbiamo più avere paura. Andiamo sul fatto quotidiano, in apertura, patto unico, non vogliono farsi del male, Renzi e Berlusconi, patto di desistenza per i candidati, il PD si scansa nei collegi forti di Forza Italia e viceversa. Sgarbi lo confessa, in campagna De Luca fa votare per me. E poi nei 5 Stelle, Casaleggio spiega le parlamentarie primarie dati in ritardo per colpa della privacy. Ancora, esclusivo, ecco come i politici si vendono ai lobbisti, se mi paghi ti aiuto. Il reportage del nostro mensile Millennium scrive il fatto quotidiano, negli Stati Uniti, ad esempio nel mondo anglosassone, comunque l'attività di lobbying è regolata e trasparente, in Italia invece non è così anche per retaggi culturali. Andiamo sul Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico e finanziario italiano in apertura, il Telefisco 2018, la tradizionale manifestazione per approfondire le novità fiscali del nuovo anno organizzata dal Sole, per le mini partite IVA, fattura online limitata, recupero dell'evasione sopra i 20 miliardi con le sanatorie. Poi c'è l'intervista al Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rendere strutturali gli incentivi di industria 4.0. Proseguiamo sul Sole, manifattura da record in Italia, fondi scettici sul sistema paese, posizioni ribassiste su piazza affari per 10 miliardi. L'indice PMI italiano ha il top da 7 anni, mentre cala in mezza Europa. Andiamo avanti sul manifesto, il titolo di apertura tradizionale sulla fotografia, la notte della memoria. Andiamo a vedere la didascalia, a poche ore dal giorno della memoria, il Senato di Varsavia approva la legge negazionista sulla Shoah, ha proibito nominare i lager polacchi. Israele e Stati Uniti protestano. In Italia l'appello di 23 associazioni, tra cui Ampi CGL e Arci, è libera contro la presenza di liste neofasciste. Nel taglio alto invece ritroviamo la notizia che riguarda Amazon. Brevetti Amazon, il padrone, ti spia, bufera sul braccialetto elettronico per controllare i movimenti dei dipendenti. Sul messaggero ritroviamo in apertura la notizia che abbiamo visto in precedenza. Bracciale al lavoro, il caso Amazon, il gigante del web, brevetto uno strumento per monitorare tutte le attività nei magazzini. Il no di Gentiloni, la sfida e la qualità, non i controlli. L'azienda dice, ottimizziamo le operazioni. E poi Mattarella apre il dossier treni sulla fotografia di un treno quanto mai affollato. Faro sulla manutenzione dopo i diragliamenti di Milano e Roma. Il Quirinale convoca del Rio, richiesta più sicurezza e maggiore attenzione alle esigenze dei pendolari. Proseguiamo con il quotidiano Il Tempo, che in apertura mette il caso di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni trovata, diciamo, dilaniata in due trolley. Pista nera, si indaga sul nigeriano che si difende, non ucciso io, Pamela. Polemiche sul permesso di soggiorno dell'uomo che era scaduto, sparite le viscere, spunta anche l'ombra del voodoo. Andiamo su Libero, ancora quotidiani di area di centrodestra. Intervista Berlusconi, se vinco aggiusto tutto. O spiegate l'Europa che il centrodestra eviterà il caos in Italia, dice Berlusconi. Dopo la maratona per le liste ho diritto a un po' di riposo. L'aliquota fiscale unica è necessaria per abbassare l'IVA. Per il Premier tanti nomi possibili, pure quello di Draghi. Dissento, continua Berlusconi da confalonieri su Renzi e le larghe intese. Vorrei Meloni alla difesa, ma giuro, decido con lei e Salvini. Queste dunque alcune delle frasi chiave dell'intervista di Silvio Berlusconi su Libero. Andiamo sulla verità, il titolo di apertura. Per i giudici i profughi possono rubare più uguali degli altri davanti alla legge. Il Consiglio di Stato restituisce il diritto di accoglienza a tre immigrati. Lo avevano perso perché sorpresi a commettere furti. Spacciatore nigeriano fa pezzi. Una ragazza di 18 anni in Italia dà clandestino. La notizia che abbiamo visto prima sul quotidiano Il Tempo. Sul secolo d'Italia il titolo di apertura. Prima il Made in Italy. Così apre il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Nel taglio basso, in primo piano, Amazon e il Big Brother. No dell'UGL e schiavismo. Poi Di Maio perderà a casa sua tutti i sondaggi pro sgarbi. Le mani del PD sul calcio. Malagò fa il pigliatutto. Andiamo su a venire ora. Il quotidiano cattolico apre con il titolo colpevoli evasioni. Il fatto aumenta il gettito incassato grazie alle cartelle rottamate. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate dice che occorre far pace con i cittadini. Recupera un record di 20 miliardi ma ne restano 110. La ricetta dei poli. La flat tax. Dalla flat tax alla patrimoniale. A centro pagina un'altra notizia importante di ieri. Terapia genica. Leucemia vinta. Successo il Bambi Gesù. Con i linfociti riprogrammati. Questa è davvero un'ottima notizia per un avanzamento nella lotta contro la leucemia. Proseguiamo sul mattino di Napoli. Il titolo di apertura. Accoltella la prof in classe. L'assurda reazione del 17enne che non voleva farsi interrogare. È stato arrestato. Il dramma in un professionale di Santa Maria Vico. L'insegnante d'italiano sfregiata dalla fronte al mento. Il racconto. Franca e viva per miracolo. Non punitelo. Ho fallito io. Dice l'educatrice. E poi il manifesto delle attrici. Contestiamo l'intero sistema di potere. Molestia. La rivolta delle star italiane. E poi l'inchiesta. Napoli. Nuove accuse di pelofidia. al prete protetto dalla Curia. Andiamo adesso a vedere i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla gazzetta dello sport. In apertura vedete questo parallelo fra Inter e Milan. Confuso e felice. Le foto sono di Spalletti e Gattuso. Partiamo dall'Inter. Per Suning e le ragioni di un mercato deludente. Zhang ha già investito 530 milioni a un nuovo incarico politico. Il governo cinese vieta le spese folli. E al tecnico resta Rafinha. Intanto Icardi vanda i croati e giallo. E poi Milan. Tra un mese c'è il derby. Piano ringhio per la rimonta. La squadra rossonera dal 3 dicembre ha rosicchiato 8 punti ai cugini. Ora sono a meno 10. Il duello Cutrone-Kalinic per un posto in avanti. Ma per i tifosi è troppo tardi. Secondo il sondaggio di SVG e la gazzetta dello sport. Andiamo nel taglio alto. Un uomo solo al comando. Malagò in lega. Figgici al braccio destro. Costa Curta sceglie il CT. Mancini in pole. Il capo del CONI affida a Fabricini la fede del calcio. e lo fa nominare commissario della A. Cresce il partito dei calciatori con Bigli Vice in Figgici e Corradi in Lega. Andiamo nel taglio basso adesso. Lo sprint in testa. Napoli al Biol e la chiave. Juve di Bala cambia marcia. Poi proseguiamo sul Corriere dello Sport. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Azzurro Mancini via al nuovo corso del calcio. Fabricini commissario della Figgici con Costa Curta vice. A Malagò la Lega di A tra le priorità il CT della Nazionale. In pole c'è il tecnico adesso allo Zenit. Nel taglio alto è Mre Can. Juve e sì il centrocampista del Liverpool ha scelto Allegri. Manca solo l'annuncio. Il mercato degli svincolati entra nel vivo. I giocatori in scadenza giugno sono già liberi di trovare un accordo. Nella lista c'è anche il Laziale De Vrai. Nel taglio basso mi chiamo di nuovo Vanda Icardi. Sui social ricompare il cognome di Maurito per Vandanare. Serie B il Palermo a Empoli. Una sfida col profumo di Serie A. Un grande anticipo apre la giornata tra i toscani. Debutta Maietta, Tedino, Sceglie. Andiamo su tutto sport. Anche qui vediamo il titolo di apertura del giornale. Juve è già futuro. Quattro colpi per giugno. Vedete le foto di Mre Can e Pellegrini. La società ha sfruttato la sessione invernale per impostare gli affari da chiudere in estate. Secondo i tedeschi bianconeri vogliono. Ta, il centrale del Bayern Leverkusen. Di Bala, ottimismo per la Champions. Douglas Costa e Berladeschi. Due sospiri di sollievo. Qui vedete anche le foto di Hann e Darmian. Andiamo nel taglio alto. Si parla di Torino. Mazzari, ora pensaci tu, Toro, all'assalto dell'Europa. Senza rinforzi. La svolta per quanto riguarda il calcio, il governo del calcio italiano. Costa Curta, Figgici, con Fabricini e Corradi. Lega con Malagò. Le scelte fatte per governare il calcio dopo il tracollo della nazionale. Tradito dal mercato. Spalletti, nervi a fior di pelle. Poi c'è il Milan, Cutroni inamovibile, Massuso si è smarrito. Poi l'estero, Mourinho e Conte. Prima la rissa, poi la crisi. Troviamo anche la Formula 1. La Ferrari dei record. Manca solo il mondiale. La rossa vola sul mercato. Utile del cresce del 34%. Poi il volley. Ridurre le straniere. Novara si ribella. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per approfondire le notizie dall'Abruzzo, aprendo le pagine interne dei quotidiani regionali. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dall'Abruzzo. Riapriamo le pagine interne dei quotidiani regionali. Andiamo a vedere sul quotidiano Il Centro. In primo piano, Abruzzo verso il voto del 4 di marzo. Scontro aperto Movimento 5 Stelle d'Alfonso Marcozzi. E candidato deve dimettersi dalla regione. Il Presidente voglio dare più potere agli abruzzesi. Secondo i 5 Stelle, il Governatore non può fare campagna elettorale sfruttando le istituzioni. I soldi della collettività abruzzese, il ruolo che i cittadini gli hanno affidato. Ma il Governatore risponde, io coltivo un solo ruolo, quello di fare in modo che ci sia più potere e più strumenti a servizio degli obiettivi degli abruzzesi. Intanto, le prime grane per il PD. Di Matteo lascia il gruppo del Partito Democratico, decide tutto il cerchio magico. La frase chiave della lettera che ha scritto l'assessore Donato Di Matteo. Prese decisioni altrove per la formazione delle liste elettorali da un cerchio magico, ossequioso e arrogante. E questo è il motivo che ha indotto Di Matteo a lasciare il Partito Democratico. E poi le liste escluse, i forconi ricorrono in Cassazione. Nel taglio basso, rendi conti in ritardo, no al portavoce di Di Pangrazio. La magistratura contabile da parere negativo anche alla proroga dei contratti di consulenza in scadenza. Andiamo sul messaggero, nella pagina Abruzzo, ancora la politica, il voto dell'orgoglio sul ring dell'Aquila. L'approfondimento sulle candidature aquilane. Martino, ci vuole competenza tecnica e amore. La Panei, il PD, ha sempre saputo riprendersi. Fedele, il Movimento 5 Stelle recupererà questo territorio. E Fabiani sono espressione di questa realtà. Parlano i candidati che non sono riusciti ad avere posti sicuri nei listini. Nel taglio basso ritroviamo invece lo scontro d'Alfonso 5 Stelle con Di Matteo che lascia il PD nel frattempo. E i 5 Stelle che dicono d'Alfonso ha paralizzato completamente la regione. Possiamo andare a vedere le dichiarazioni di Sara Marcozzi, consigliere regionale dei 5 Stelle, e di Gianluca Vacca, sempre del Movimento 5 Stelle. Consigliera Marcozzi, voi parlate di regione Abruzzo, ostaggio del presidente Luciano D'Alfonso. Perché? Evidentemente una regione sequestrata. Il presidente di regione Luciano D'Alfonso ci ha detto che candida l'Abruzzo al Senato della Repubblica. In realtà candida la sua persona al Senato della Repubblica. Se intende fare il senatore della Repubblica liberasse questa regione, tanto i risultati che ha ottenuto negli ultimi tre anni sono pessimi. Meno 15.000 posti di lavoro, 11.000 abruzzesi hanno abbandonato l'Abruzzo per cercare lavoro altrove e 2.500 imprese hanno chiuso. Se questi sono i risultati che intende perseguire anche al governo del paese, farebbe bene a dimettersi da presidente e a ritirare anche la sua candidatura. E quindi se lui vuole fare il ministro, evidentemente già si sta preparando per fare il ministro dell'Inciucio. Ricordo che con il Movimento 5 e 6, con le nostre regole, il caso D'Alfonso non esisterebbe. Perché noi abbiamo il limite dei due mandati e non possiamo dimetterci o candidarci mentre svolgiamo un ruolo istituzionale per altre cariche, per altri incarichi istituzionali. Cambiamo argomento adesso, andiamo sulla pagina Abruzzo della città. Il titolo di apertura, acqua sicura, annullato l'esperimento SOX. Impossibile produrre la sorgente radioattiva in Russia, salta il programma di INFN e CEA. Ci pensano i russi, dove non sono riuscite le proteste, le istituzioni sono riusciti appunto i russi annunciando di non riuscire a realizzare la fonte di antineutrini. Il coordinatore del progetto SOX spiega che sapevamo che costruire la sorgente antineutrini sarebbe stata una sfida tecnologica impegnativa. Ci sono stati appunto dei problemi tecnici che ne hanno impedito la costruzione, oltre chiaramente anche alla pressione delle polemiche di questi mesi. Allerta meteo, pioggia forte, venti di burrasca su tutta la regione con un codice arancione, lo possiamo leggere qui, per rischio idraulico diffuso per le zone interne della regione. Lo rende noto il responsabile del centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile, Antonio Jovino. Andiamo nel taglio basso, ora la natura sulle montagne abruzzesi scoperta, una pianta unica al mondo, trovata sul Monte Ocre dai ricercatori del centro ricerche floristiche dell'Appennino. Dunque questa è una bella scoperta, ogni tanto c'è anche qualche notizia positiva. Torniamo sul quotidiano Il Centro, ritroviamo anche qui nella pagina di primo piano l'esperimento cancellato, sorgente poco radioattiva, Dio ASOX, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CEA rinunciano al progetto. Lolli, il vicepresidente della regione Abruzzo, dice che ora serve la messa in sicurezza di tutto il sistema Gran Sasso, dove c'è l'acquifero più grande del centro Italia. Continuiamo, fusione nucleare, Abruzzo in corsa per il sito, in campo una macchina sperimentale da 500 milioni di euro che studia l'energia delle stelle. Nel taglio basso è nata la rete regionale sulle malattie rare, oggi è convocata la riunione per rendere operativa la terapia subintensiva pediatrica di Pescara. Andiamo a vedere insieme anche questo servizio. Sostanzialmente si è elaborata una strategia che tenderà nel periodo di vigenza fino al 2022 a rendere l'Abruzzo autosufficiente dal punto di vista gestionale. È un termine che solo dieci anni fa poteva davvero rappresentare una chimera, oggi invece è realtà. Non era questo il servizio che avevamo annunciato, questo servizio invece si riferisce al piano dei rifiuti che vedremo più avanti. Chiedo alla regia se è possibile recuperare il servizio per quanto riguarda le malattie rare, allora possiamo andarlo a vedere insieme. Cura delle malattie rare nella nostra regione, oggi Assessore Paolucci se ne è parlato a Pescara, avete presentato questa rete regionale davvero di grande valenza. Sì, sono molto orgoglioso. Conta uscire dal commissariamento, conto ovviamente recepire gli atti prontamente come la regione sta facendo su diversi percorsi assistenziali. Conta anche dare delle risposte ulteriori rispetto anche al quadro dei regolamenti nazionali. Noi qui diamo la possibilità alla regione Abruzzo, alla nostra comunità regionale di usufruire di integratori, di farmaci ulteriormente, anche rispetto a quanto previsto dai regolamenti nazionali, conta avere una vera e propria rete che in questo caso riguarda i bambini, riguarda ovviamente le tante famiglie, riguarda uno screening stesso e nella rete si definiscono i centri di riferimento collegati ai percorsi nascita, ai punti nascita, collegato ovviamente anche agli altri presidi e allo stesso tempo si rende questo percorso assistenziale più garantito. Vuol dire salvare vite umane e in questo caso vuol dire salvare la vita di tanti bambini? Noi abbiamo nella nostra regione 5.431 pazienti che hanno già problemi con le patologie rare, in più essendo delle patologie che hanno una ben definita incidenza, questo significherà che nella nostra regione avremo ogni anno da 4 a 500 pazienti nuovi. A tutte queste persone noi abbiamo voluto garantire con la rielaborazione della rete regionale, abbiamo voluto garantire una certezza di diritti e quindi tutti i pazienti sapranno i farmaci, i dispositivi, i presidi diabetici, gli integratori e i dietoterapici a cui avranno diritto in termini di assistenza e questo non era né facile né scontato in quanto le direttive nazionali rinviavano ai provvedimenti delle singole regioni. Abbiamo voluto dare certezza di punti di riferimento, quindi ogni ASRA avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i presidi ospedalieri, le unità operative e addirittura l'identificazione dei medici che saranno responsabili nella presa in carico del paziente. Andiamo avanti con la lettura dei giornali, apriamo la pagina di Pescara sul centro e troviamo in apertura i tributi del comune, tasse vase sia al condono fino a 5 rate, il consiglio da via libera alla riapertura della sanatoria chiusa nel 2017, le domande vanno presentate entro il 15 maggio, le regole per accedere alla sanatoria, le trovate all'interno del giornale. Poi tagli all'assistenza degli studenti disabili di Incecco e Pignoli, pronti a scendere in piazza se il comune non individuerà le risorse necessarie. Proseguiamo sempre sulle pagine di Pescara del centro, la strada dell'università via Lepindaro, nuova ciclabile e limite a 30, in arrivo limiti di velocità e attraversamenti rialzati per aumentare la sicurezza, i lavori partono la prossima settimana e poi si ha un grande parco nell'area di risulta, la giunta approva lo studio di fattibilità Civitarese, la prossima settimana ci sarà il voto in consiglio. Nel taglio basso, nuova viabilità anche vicino all'ospedale, ieri firmato l'accordo fra Comune e Asle. Andiamo avanti, la cronaca ora, catturato un truffatore, era ricercato in Francia, ha aperto conti correnti oltre Alpe, ha versato assegni e banconote fasulli, poi ha prelevato 11 mila euro, la squadra mobile lo ha bloccato a Rancitelli. Oggi l'addio in provincia di Agrigento per lo studente trovato morto nella pineta di Monte Silvano. Scendiamo nel taglio basso, i nastrini discutono della scuola, oggi in provincia incontro su riforma, sicurezza e proposte per il futuro. Vita di quartiere, volontariato, pulizia verde, l'altra faccia di Rancitelli, uno dei quartieri difficili di Pescara in cui la Caritas sta portando avanti il progetto Ninive e poi nel taglio basso le periferie bisogna andarci, così Don Marco Pagnello. Andiamo ancora avanti, Sant'Antonio, due mesi per riparare la chiesa ma servono fondi, interventi post terremoto nella parrocchia di via Sabucchi. Padre Nicola dice, sono certo che i pescaresi saranno generosi. Ancora i talenti della musica si sfidano a Sanremo l'8 febbraio, la ventesima finale del Festival della Melodia. Andiamo avanti, nella pagina di Monte Silvano, turismo, la strada dei grandi alberghi, via Maresca, il cantiere apre dopo tre mesi. Firmato ieri il contratto con la ditta Bucco Costruzioni di Chieti per gli interventi di riqualificazione annunciati ad ottobre. Nella pagina successiva, quella dell'area metropolitana, Cimitero, anche spoltore punta sul gestore privato, passa in giunta una proposta progettuale che consente di realizzare con bando di gara 2.500 loculi in 18 mesi in cambio di un affidamento per 25 anni. Sempre dall'area metropolitana, in zona sud, a Francavilla, piscina, accesso sospeso per le liti sulla gestione, disagi per gli utenti e tensioni tra progetto sport, esclusa ad agosto per decisione del giudice, e sport in fitness che ha in cura gli spazi d'acqua. Da San Giovanni Tiatino, strade sicure con un'app istituita, anche una consulta. Nella pagina successiva, quella dell'area vestina, raccolta dei rifiuti a Popoli si potenzia. Il porta a porta, da ieri il servizio è stato intensificato per tutti i materiali, nuovi mezzi a disposizione, saranno anche riparate le buche. Disabili senza cure, domani la protesta, nuova giornata di mobilitazione in Piazza Duomo per aiutare 38 giovani e le loro famiglie. Andiamo ad aprire adesso il messaggero nelle pagine di Pescara. In apertura, effetto boulevard per Viale Pindaro, zona 30 all'ora, marciapiedi più larghi, tavolini all'aperto nei bar e piste ciclabile. La strada sarà il primo anello di Pescara 2027, lavori al via dalla prossima settimana con la benedizione dei commercianti della zona coinvolti nelle scelte del Comune. L'applauso del Sindaco a studenti, professionisti e frequentatori della zona che non hanno fatto barricate contro la trasformazione. Andiamo avanti. Testamento biologico. Il Comune è pronto a ricevere le disposizioni. Ancora nessuna richiesta due giorni dall'entrata in vigore della legge, ma la macchina amministrativa è a punto. E poi, ospedale, scompare. L'incrocio pericoloso. Maxi Rondò per il nuovo pronto soccorso. Andiamo nella pagina dell'area metropolitana. Nuovo look per il Viale degli Alberghi. A Montesilvano, operazione di rilancio per la strada del turismo. Marcia a piedi e verde per accogliere in grande stile i villeggianti. Cozzi dice che sarà la naturale prosecuzione dell'isola pedonale. Il Comune investe 400 mila euro da lunedì via al cantiere. E poi cocaina alla sbarra ai calabresi. Tra le accuse un tentato, omicidio, un fiume di droga dalla Lombardia a Francavilla, dove c'era la base del capo Simone Cuppari. Nel taglio basso, dopo il crollo, riapre l'alberghiera. Oggi il taglio del nastro in via dei Sabini. E poi Industria 4.0, a lezione anche i manager Ater. Andiamo avanti con il messaggero. Andiamo ad aprire adesso la pagina di Chieti. In apertura. Assaltavano case e negozi presa la banda dei romeni. Tre finiscono in carcere. Nascondevano refurtiva da 100 mila euro e 450 proiettili. Trovate numerose munizioni da guerra. Spuntano persino traccianti da contraerea. Blizze dei carabinieri dello scalo con il cane Nox. E poi anziano, violenta, per quattro anni, giovane, disabile. La procura ha processo. La trentenne ha tentato anche il suicidio in casa. Proseguiamo nella pagina della provincia. ZTL, nuovi cartelli, ma sono sbagliati. Ieri l'inizio dei lavori per meglio segnalare i sette varchi nella zona traffico limitato di Lanciano. Scomparsi pure i semaforini. In poche ore l'ennesima gaffa. Il cartello errato verrà coperto con una striscia adesiva e ci sarà scritta la giusta indicazione. Ancora da Ortona. Rapinatori e l'ufficio postale. Bottino da 10 mila euro. Andiamo sul Quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere le pagine di Chieti. Nuovi ipermercati. In apertura Megalo 2. Il Genio Civile gela i costruttori. Il direttore di Biase dice non possiamo esprimere valutazioni sulla regolarità della ripresa dei lavori. La palla ripassa ai comuni. Andiamo avanti. Discarica abusiva scoperta a Filippone. Sempre a Chieti. Rifiuti di ogni tipo in via San Camillo dell'Ellis. Trovati dalle guardie ambientali volontari della GEAV. Nel taglio basso teatro. Arriva il Franco Bollo del Bicentenario. Questa sera alle 21. il concerto di Uto Ugi. Poi lotta ai furti. Sono ai domiciliari ma rubano lo stesso. Abbiamo già visto in precedenza le persone arrestate con l'operazione dei carabinieri. Andiamo avanti. Operato lo sciatore caduto. Dopo l'incidente a Rivisondoli resta grave il 38enne di Casalbordino. Nella pagina ancora della provincia dell'area del Frentania rubate le pensioni alle poste di Caldario. Ortona rapina di due banditi all'apertura. Fuga con 10.000 euro. Andiamo sempre sul quotidiano Il Centro ad aprire la pagina di Teramo. La tragedia di Pineto. Bimbo morto in campo. Medico assolto. Il professionista del 118 era accusato di non aver usato il defibrillatore. Sul caso un'altra inchiesta con quattro indagati. proseguiamo. È finita da 20 anni ma lui perseguita la ex pensionato Teramano di 77 anni a processo per stalking dopo essere finito agli arresti domiciliari. Nel taglio basso Lega c'è Lucrezia Rasicci ma senza alleati. Solo Sottanelli si affaccia la presentazione della candidata. Lei dice non corro per me ma per l'Abruzzo. Proseguiamo. Addio a Balducci decano dei mobilieri. Pineto per oltre 40 anni ha guidato il suo gruppo imprenditoriale puntando sull'innovazione. Amava lo sport. Poi pronti i fondi per il polo scolastico di Pineto. La regione stanzia oltre un milione per la struttura Borgo Santa Maria. Proseguiamo sempre sulle pagine Teramane. Turismo tra polemiche ed eventi. Mano tesa agli operatori. Torniamo a collaborare. L'assessore Bruscia. Il comune non torna indietro sulla tassa di soggiorno ma i tavoli restano aperti. Spero che le associazioni collaborino. È importante. Ancora da Roseto. Proteste dei residenti per i lavori del Globo. Gli abitanti lamentano interruzioni di acqua e della linea internet. Andiamo a vedere la pagina Teramana sul messaggero. Paolo Gatti. Il grande escluso. Città senza rappresentanza. Stoccata a Forza Italia. Ci interrogheremo sulle future agibilità del nostro partito. Lucrezia Arasici. Figlia d'arte del centrodestra. Dice. Parlo da giovani ai giovani della regione. Sarebbe stato stimolante. Dice Gatti. Correre in questa sfida le politiche. Ma era solo una opzione. Andiamo ancora avanti. Nella pagina della provincia. I commercianti. Non fateci chiudere. A Giulianova parte da Via Sauro. L'appello al sindaco e ai dirigenti di settore. Intanto Fratelli d'Italia chiede fondi di compensazione per i gravi disagi. Ma c'è anche chi paventa iniziative di carattere giudiziario. Che potrebbero scaturire di fronte ad ulteriori risposte negative. Andiamo ad aprire la città. Restando alle notizie da Teramo e provincia. Il titolo di primo piano. Niente più libri nella scuola del futuro. Al Pascal Comi Forti. Il prossimo anno nascerà la prima sezione interamente digitalizzata. E poi l'intervista Gaetano Quagliarello. Un'operazione pannelliana per Teramo. Altro che paracadutato. E il senatore Azzurro punta a ricostruire la classe dirigente del centrodestra. Candidata di Chiodi è stata una scelta fatta di testa. Con il cuore ma anche con la fantasia. Dopo il voto puntiamo al comune. E alla regione. E poi una leghista alla camera. Terra bruciata attorno a Lucrezia Rasici. Big del centrodestra. Snobbano la presentazione della 26enne. Proseguiamo. Rapina. La Tercas con un taglierino. La direttrice della filiale della Cona. Minacciata di morte. Bottino. 20 mila euro. Ancora la cronaca. Tentato omicidio. 17enne a processo. Chiesto l'immediato per il giovane. Che a novembre ha aggredito a bottigliate il compagno della madre. Notizia che riguarda la Delfico. Dove arriva l'orario continuato. La regione va incontro alle esigenze degli studenti. Adeguando i servizi della biblioteca. In provincia impianti del CIRSU. Prigionieri dei ricorsi. Il dirigente regionale Gerardini risponde alle accuse del sindaco Diego di Bonaventura. E poi nel taglio basso è presentato il piano rifiuti che blocca l'ampiamento della discarica di Santa Lucia. Mazzocca annuncia la verifica per la compatibilità dell'impianto a biometano da realizzare a Mosciano. Stazione. E possiamo vedere la presentazione del piano rifiuti in regione. Venuta ieri. Sostanzialmente si è elaborata una strategia che tenderà nel periodo di vigenza fino al 2022 a rendere la brucia autosufficiente dal punto di vista gestionale. È un termine che solo dieci anni fa poteva davvero rappresentare una chimera. Oggi invece è in realtà il piano dimostra come inoltre in realtà riusciamo a sventare questa ipotesi di insediare un impianto di inserimento in Abruzzo. Perché i dati dimostrano come ciò non sia conveniente dal punto di vista economico oltre che sostenibile dal punto di vista ambientale. Inoltre sono state evidenziate oggi tutta una serie di attività che si riassumono in 590 progetti in corso di attuazione da parte del servizio di gestione dei rifiuti. Un'amore di investimenti di circa 155 milioni di euro. Ripeto, sono tutti interventi in corso che magari uno riesce a vedere con un po' di difficoltà ma che dati alla mano, saranno pubblicati da oggi in poi, credo che possano davvero rappresentare non solo una prima attuazione nel piano ma anche una risposta concreta a chi vuole perseguire come noi l'economia circolare. E questo è l'effetto più immediato, usciamo fuori dalla ulteriore procedura di infrazione per cui eravamo stati sanzionati, sarebbe stata la settima perché ne abbiamo già tre sul tema dei rifiuti e tre sul tema degli inquinamenti idrici e sventiamo questa eventualità sicuramente dannosa e perniciosa per il nostro Abruzzo. E inoltre gli effetti di questo piano si espricheranno anche su talune iniziative progettuali presentate o semplicemente addombrate che cozzano con i dettami del piano e uno di questi è l'ampliamento delle scariche di Santa Lucia e di Atri. Andiamo avanti con la pagina dell'Aquila sul messaggero, in apertura la perdonanza Leonardo D'Amicis pronto a far decollare la perdonanza. Appunto il nuovo direttore artistico dovrà puntare a riscuotere riconoscimenti di grande qualità, si tratta della capitale della cultura 2021 e di ottenere la candidatura dell'UNESCO. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. Una perdonanza che sarà di ripartenza puntando sulle eccellenze locali nella musica, nel teatro e nella cultura. E a proposito di eccellenze locali esportate nel mondo, il direttore artistico sarà il maestro Leonardo D'Amicis. Si punterà sulle specializzazioni esistenti in città mettendo in campo tutte le sinergie possibili e soprattutto le nostre eccellenze incontreranno il carattere nazionale, ha detto D'Amicis. Con artisti che saranno chiamati a cucire gli spettacoli nel contesto, non si acquisteranno insomma spettacoli preconfezionati perché non tutto si può comprare con il denaro. Ma in mente sicuramente quello di risfruttare le energie locali, le sinergie con tutte le parti artistiche eccellenti del territorio e cercare di fare questa sinergia, questa unione, questo incontro tra l'Italia e l'Aquila. Sì, tornerei a non comprare l'evento ma a produrlo, nel senso pensarlo, vestirlo addosso alla città e quindi cercare di portare l'artista qui in un contesto che noi gli prepariamo, non che lui prepara. Il comitato per donanza sarà presentato a breve ma già sta lavorando, ha detto l'assessore Sabrina Di Cosimo che sarà vicepresidente e coordinatrice delle tre sotto aree. Il presidente sarà ovviamente il sindaco, un'area scientifico-religiosa che si occuperà anche della candidatura UNESCO tra l'altro, l'altra artistica e l'altra tecnica operativa che si occuperà di bandi, appalti e stretta organizzazione. L'Aquila tra l'altro si candida anche a Capitale Italiana della Cultura per il 2021, dunque c'è tanto da lavorare. Un comitato che sarà per tre anni, non ci sarà un tema che cambierà come era in passato, il tema sarà quello di Celestino, perdono e pacificazione. Si punterà a far incontrare magari ragioni diverse, è un'idea e ci saranno anche dei riconoscimenti, riconoscimenti alti, non premi, ci tengono a dire dal comune. L'idea intanto è sicuramente di dare uno spessore culturale, perché è da lì che si parte, l'arte, la cultura è alla base proprio di ogni discorso e piano piano crescendo credo che ce la faremo, speriamo, ma penso che ce la faremo. La pagina dell'Aquila sul centro apre con il dramma di Campofelice, sciatore morto, tragedia senza colpevoli, gli accertamenti dei carabinieri sembrano escludere responsabilità sul decesso di Gaudieri, finito fuori pista. E poi le lacrime di Capistrello, per ricordare Di Marco, migliaia di fedeli per l'addio all'imprenditore che è morto in un incidente sul lavoro. I volontari Avis portano la barra, il sacerdote dice marito esemplare, padre magnifico e lavoratore tenace. La pagina di Sulmona, l'edificio storico è stato di abbandono, gli ex allievi riaprite il liceo Ovidio, in 35 invocano una costituente per la cultura classica e il ritorno nella scuola chiusa subito dopo il terremoto del 2009. Poi negozi in centro storico, aiuti necessari, questo sollecita la Confesercenti. E poi ad Avezzano, l'arte della polemica del turco avrà il gettone di presenza. Ecco la delibera di giunta che fissa dei rimborsi in favore del comitato scientifico del premio Avezzano di Pittura, di cui fa parte appunto l'ex governatore della regione Abruzzo. Nel taglio basso, allevatori multati, scatta la mobilitazione, appello al prefetto e ricorsi degli avvocati, vertice in municipio con una delegazione di imprenditori, sempre ad Avezzano. Passiamo adesso alla serie B, perché domani c'è la partita fra Pescara e Frosinone in terra laziale. Allarme Mancuso, Zeman in ansia per Fiorillo. L'esterno ha un tram al setto nasale, il portiere una distorsione alla caviglia. In caso di Forfè, Scalpita, Iamgà, Brugman intanto recupera. Toto DS per il prossimo anno spunte, il nome di Angelozzi del Sassuolo. Il Pescara prima e dopo il mercato, lo vedete riassunto in questa grafica. La situazione dopo il mercato, con il titolo Fiamozzi e Falco, le certezze. Stendardo può rescindere, Falco che però è infortunato. Andiamo a vedere la serie C, completiamo la lettura delle pagine di sport del centro. Dopo il mercato, ecco il Teramo come è cambiato. Campitelli, ora serve un filotto di vittorie. Il Patrone c'è un'area migliore nel gruppo, si può dare una svolta alla stagione. Domani in casa contro il Pordenore, Palladini potrebbe dare fiducia dall'inizio a Bifulco, San Domenico e Gondo. L'attacco presenta le maggiori novità e poi la società lancia l'iniziativa Portami con te riservata ai papà che andranno allo stadio Bonolis con i propri figli. Nel taglio basso il rigore non c'è e Barbacane lo calcia fuori. L'episodio nella sfida di Coppa Abruzzo fa Scafacast e Villanova, arbitro ingannato dalla mia caduta. Questo fa onore al classe 1998 Simone Barbacane. Andiamo in serie D, le abruzzesi con la vittoria di segna Lavastese. Basta ingenuità, De Feo e Leonetti sono fuori per squalifica. Il tecnico pensa di Pietro e Bittai e titolari a Iesi. Andiamo a vedere le altre partite. Al Mariani Pavone, il San Nicolò prepara la sfida al Castelfidardo. Poi il momento negativo, Brocco e Pineto servono prestazioni migliori. L'Avezzano domani al Pallozzi con Bisegna e Pollino subito in campo. E i Nero Stellati di Corcia ritrova la punta Oaci nel taglio basso. Andiamo a vedere le altre notizie. Boucher, l'Aquila vuole i playoff verso la trasferta di Agnone. L'esterno figlio d'arte, il padre giocava nell'Empoli. Sprizza fiducia. Milizia e la bandiera del Francavilla. Domani potrebbe toccare quota 300 presenze in bianco-rosso per il giocatore che ha soli 25 anni. Andiamo in eccellenza. La polemica. Sede della finale di Coppa. Ortolano, Bacchetta, Ilchieti e Giulianova. Mercoledì alle 15 si giocherà a Città Sant'Angelo. Il presidente decide la FIGC. Non due dirigenti al bar. Ancora Massa passa dalla Renato Curi Angolana alla Ternana. Un altro prodotto dei vivai e dei dilettanti abruzzesi in rampa di lancio dopo Panecasio. E si vede. Nel surf i medi australiani applaudono il pescarese Papa. Proseguiamo ancora con la palla a volo. Domenica ripartirà la seconda fase della Serie A2. Lanci e Lasieco. Le prime gare sono decisive. Subito averse in casa. Poi Alessano. Il tecnico recupera l'opposto. Banks. Andiamo sul messaggero per vedere insieme la pagina di Sport. Eccola qui. In apertura si parla del Pescara. Pescara soddisfatto di questo mercato. Patron Sebastiani traccia il bilancio delle operazioni effettuate. Abbiamo puntellato dove il mister lo ha chiesto e sfoltito anche la rosa. Le rivali Parma Superstar. Rivoluzioni a Foggia e ad Ascoli. Per il volley di A2 Ortona c'è Banks e il suo momento. Lasieco recupera il giocatore fondamentale. E poi andiamo a vedere la Serie C. Panico e Gondò. Teramo è la nostra occasione. I due attaccanti si presentano. Squadra rivoluzionata. Bifulco e San Domenico pronti al debutto immediato contro il Pordenone. Per la Serie D. Vastese, Viscardi, Operato, rincuora tutti. Poi troviamo il basket di A2. Sharks sulla torre. Ma Orzi nuovi avrà Adam Smith. L'ex Roseto verso l'ingaggio proprio nella concorrente per la salvezza. Il Real Giulianova e Chieti. Finale di Coppa a Francavilla. Torniamo invece a parlare di Serie D. Caffiero. Ho scelto di restare all'Aquila anche se avevo richieste dalla Serie C. E poi per il Futsal. Civitella Sicura punta alla Serie A. Presi Romano e Paoligno. Ora la Coppa. Andiamo a vedere anche lo sport sulla città. Si parla chiaramente del Teramo. Il titolo Teramo dopo il mercato. Lo sprint salvezza. Rosa parzialmente rivoluzionata per puntare alla permanenza in categoria. Domani il Pordenone al Bonolis. Il bilancio degli affari. In un mese di trattative. Il diavolo è riuscito a trasformare il proprio organico. Maggiore esperienza con Bifulco e Rossi. Le scommesse davanti per cercare i gol che servono a mantenere la Serie C. Chi sarà titolare? L'arrivo di Bifulco tra i pali potrebbe modificare le gerarchie. Oppure Calore sarà ancora il titolare. Poi spinta sulle fasce con Rossi a sinistra e Ventola a destra. Palladini punterà sulla proiezione offensiva dei laterali. E ancora attacco tutto nuovo. Andati via ai centravanti Fogge e Barbuti. Panico può fare la prima punta. Gondon invece cerca il rilancio. Con questa notizia. Con la pagina di sport della città. Si chiude la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Vi do appuntamento a domani alle ore 8 per un'altra puntata di Mattino 6. La nostra informazione invece oggi torna alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.